ragazze buongiorno allora io sto arrivando ora dalla palestra mi sono fatto una bella un bel circuito intero e allora ragazze quindi vi ho messo qualche immagine della palestra e adesso mangio quattro pennette quattro integrali con un po di broccoli e poi nel pomeriggio vi faccio quindi vi faccio questo video con le cose che ho comprato qualche giorno fa e poi ragazze c'è ancora come dire un altro video per quanto riguarda i regali di mia cognata ebbene si mi ha dato ancora cose ieri siamo stati appunto alla villa abbiamo pranzato là difatti vi ho caricato un brevissimo video e mi ha dato ancora cose quindi vi devo fare vedere questa cosa una cosa che mi ha dato in particolare mi ha ispirato per la tavola di natale va bene quindi cominciate a pensare che cosa potrebbe essere e più tardi naturalmente vi faccio vedere appunto sia le cose che ho comprato io sia appunto le cose che mi ha regalato mia cognata ragazze guardate la mia pasta questi sono circa 70 grammi di pasta integrale io me la faccio cuocere un po di più non lasciando molto al dente almeno così sembra mi illudo che sembra di più perché appunto la pasta è più è cotta più gonfia più prende volume allora adesso metterò questo condimento questi sono broccoli con passolini e pinoli prima sono stati scottati poi ho fatto soffriggere la cipolla e ho messo appunto passolini e pinoli poi ho messo le acciughe e poi ho messo poco 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 di passata di pomodoro per colorare un poco appunto questo broccolo di solito si mette lo zafferano però dico per fargli prendere un poco di colore va bene anche un po di pomodoro e quindi adesso mi condisco questo misero piatto no no tanto misero non è con questo condimento naturalmente col condimento il appunto il volume diciamo tutto quanto aumenta e così mi illudo di avere mangiato un bel piatto di pasta